Buonasera, 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 buonasera. Lo speciale di oggi è dedicato alla figura del Dottor Klaplan, un uomo che con il suo arriva a Montodine, negli anni 60, ha contribuito a diffondere il Made in Montodine nel mondo. E con questo speciale denso di testimonianze, che si vogliono ripercorrere le tappe salienti dell'esperienza montodinese del Dottor Klaplan.